Il sole oggi splende sui campi allagati, sulle strade marridotte e ancora chiusi al traffico, dopo la pioggia che per tre giorni ha messo in ginocchio l'agricoltura del barese. A rischio potrebbero essere i raccolti di settembre e l'uva per la vendemmia, ma si è corsi già ai ripari. 11 comuni della provincia di Bari hanno chiesto lo stato di calamità naturale. I sindaci di Bitetto, Sanicandro di Bari, Bitritto, Binetto, Bitonto, Adelfe e ancora Cassano delle Murge, Palo del Colle, Grumo Appola, Muduni e Acquaviva delle Fonti, chiedono risorse che costituiscono il fondo di solidarietà per le emergenze naturali, la sospensione della rata in favore dei giovani che hanno iniziato un'attività agricola. La richiesta di riconoscimento di calamità naturale per la provincia di Bari è stata avanzata al governo anche dal deputato Salvatore Mattarrese, capogruppo di scelta civica in Commissione Ambienti alla Camera. Per il settore agricoltura, ha spiegato Mattarrese, ho richiesto l'attivazione di misure specifiche per tutelare i produttori per i danni subiti ed in particolare i contributi in conto capitale fino all'80% del danno sulla produzione lorda, vendibile e ordinaria, prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale e prodoga delle rate e delle operazioni di credito in scadenza. Il maltempo è soltanto un ricordo. Domani, primo giorno d'estate, astronomica, tutti al mare, con temperature in aumento che già domenica potrebbero toccare i 30 gradi.